Grazie, ne userò molti di meno soltanto per precisare che con questo emendamento andiamo a tradurre in obiettivi e in indicatori di performance quanto abbiamo approvato con il precedente ordine del giorno e quindi in particolare andare a stabilire come obiettivo esplicito per il Dipartimento Sport, completare la risoluzione delle istanze che sono la diretta applicazione di quanto previsto nelle norme transitorie del regolamento approvato con delibera di assemblea capitolina del 2018 e dare esecuzione alla delibera sempre di assemblea capitolina del 2020 con la quale abbiamo approvato delle misure traordinarie per affrontare l'emergenza che stiamo ancora vivendo per gli impianti sportivi comunali e quindi dare la possibilità ai gestori di modificare le superfici esterne degli impianti in modo da poterle utilizzare per le discipline oggi consentite. Grazie